Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Recentemente, un velo di preoccupazione ha avvolto Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, una figura solitamente molto presente sulla scena pubblica. La ragione dietro questo improvviso ritiro è legata alla sua personale lotta contro il cancro, una battaglia che ha scelto di affrontare lontano dagli occhi indiscreti e dalla frenesia dei media, cercando un'oasi di tranquillità dove poter seguire le cure necessarie. Tuttavia, pare che le preoccupazioni che gravano su Kate estendano i loro confini ben oltre la sua condizione di salute. Al centro delle ultime preoccupazioni, infatti, ci sono le difficoltà finanziarie che stanno affliggendo i suoi genitori, Carole e Michael Middleton. Le pagine del Mirror hanno recentemente gettato luce su una situazione di profonda crisi. I Middleton si trovano a dover navigare le acque turbolente della bancarotta, incapaci di risanare i debiti accumulati negli anni attraverso la loro impresa, Party Pieces. Le cifre in gioco sono tutt'altro che trascurabili. Stando a quanto emerso, la famiglia deve a Impact Advisory, società che si occupa di gestire le situazioni di insolvenza, la somma di 260.000 sterline. A questo debito si aggiungono pretese per ulteriori 2,5 milioni di sterline da parte di creditori sempre più insistenti, delineando uno scenario di pressione finanziaria continua.